Nei vostri spettacoli esiste questa tradizione napoletana o no? Esistono gli spettacoli e esistono la musica. C'è un aggancio con la tradizione napoletana recuperando tutto quello che c'è di valido a livello di umano, di valori umani. E questo lo mettiamo fuori anche musicalmente. Ci sono anche degli agganci strettamente musicali con la tradizione napoletana. Abbiamo ricalato alle tradizioni napoletane l'immagine simbolica di un mondo decadente in netta contrapposizione con la società di oggi, consumistica di oggi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.